Quinta giornata del campionato di eccellenza. Ancora una trasferta per l'Unitas e Sciacca, che domenica pomeriggio è atteso da una nuova sfida contro l'Accademia Trapani. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 15.30 allo stadio Roberto Sorrentino. Le due squadre si ritroveranno nuovamente di fronte appena quattro giorni dopo, rispetto alla partita di ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia. Nei due precedenti stagionali, riferiti appunto alla Coppa Italia, i neroverdi si sono imposti entrambe le volte, 3-1 all'andata a Mazzara del Vallo e poi 2-1 al ritorno a Trapani. Ma domani ovviamente sarà tutta un'altra partita e un'altra competizione. Non a caso le due squadre in classifica hanno entrambe sei punti e, dopo qualche passo falso di troppo, puntano al bottino pieno. In particolar modo l'Unitas e Sciacca viene da tre pareggi consecutivi e proverà a vincere per avvicinarsi alle posizioni di testa e alla zona playoff. La squadra del tecnico Angelo Galfano, in queste prime giornate di torneo, ha fatto denotare una certa difficoltà ad andare a rete. Sono soltanto tre, infatti, i gol siglati fino a questo momento, a testimonianza del fatto che, probabilmente, l'assenza dell'attaccante mistretta per infortunio si è fatta sentire più del dovuto. Ci si attende qualche novità di formazione, sia per ruotare la rosa in ottica del doppio impegno tra Coppa Italia ed eccellenza, sia per provare a trovare nuovi e migliori equilibri che possano permettere alla formazione di sbloccarsi, vincere e segnare. In testa al campionato c'è l'Atletico Palermo, che domani pomeriggio ospiterà il Marsala dell'ex tecnico neroverde Brucculeri. Delicato impegno in trasferta, invece, per il Gela, che sfiderà il San Giorgio Piana, con le due squadre divise al momento da una sola lunghezza. Da segnalare anche l'interessante scontro salvezza tra la Folgore di Castelvetrano e il San Vitolo Capo, con i padroni di casa che, in settimana, hanno cambiato allenatore, sostituendo Filippo Cavataio con Giovanni Iacono.